Salve a tutti e benvenuti al San Jacopà, stadio del Basilea. Ciao a tutti da Fabio Charesa, insieme a me per la telecronica di oggi, Luca Marcheggiano. Ciao Fabio, godiamoci questa partita insieme. Tutto pronto? La sfida può avere inizio. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Io scelgo Garrett Bale, uno dei giocatori più veloci che abbia mai visto, con la capacità di cambiare passo quando ne ha bisogno. Può allargarsi a sinistra per sfruttare le sue eccellenti abilità nei cross, ma spesso preferisce accentrarsi e utilizzare l'ottimo sinistro per triblare gli avversari. Tra l'altro la grande tecnica gli permette di non perdere velocità quando conduce la palla. Veramente un grande attaccante. È difficile darti d'oltre, queste sono le partite in cui si esalta.